via! è appena iniziata la finale del torneo Master Vip del Città di Cirecchia 25 sede edizione, di fronte Mamma Service e pizzi la tornana per giocarsi lo scettro di questo torneo infuocatissimo ecco subito l'azione di Mamma Service, il calzini ha quell'uomo e subito il gol di Marco Castagnola 20 secondi, 20 secondi sono bastati a Mamma Service per andare in vantaggio no, il gol più veloce è di Mr. Ambrosi Controvede da parte della pizzeria Ternana, passi allarga, Bisozzi in mezzo, Luca Di Gennaro, pata di Izzo che è successo? giocamola, giocamola Di Gennaro, Luca Di Gennaro, bellissimo gol, è andato a prendere l'angolino si è messo lì col binocolo, l'ha controllato, poi gliel'ha buttata là, il gol di Di Gennaro e non so dove attenzione la palla da questa parte, Massi, Massi è la lasciata fuori bella azione di Valerio Massi, ce l'ha segnato, ho messo un film Di Gennaro, Izzo, che cosa ha fatto? Valerio Massi avanza Di Gennaro, marcato di Castagnola, che palo che ha preso? che tiro Bisozzi, respinge la difesa 3 contro 1 Di Gennaro, in mezzo a Pefani l'appoggio è per Bisozzi Fabio Bisozzi il gol del 3 a 1 Gennaro dice, prova, attraversa la prosi di Gennaro 2 contro 1 possibile, passano, ruina Alessio Passano è il gol del 3 a 2 Antonio il gol del 4 a 2 e il primo tempo finisce qui la Ternana avanti su Mama Service per 4 a 2 via è appena iniziato il secondo tempo di questa finalissima tra pizzeria Ternana e Mama Service 4 a 2 da questa parte Marco Castagnola non è entrata nel GP d'Ungheria Leone e ci arriva Ruina la mette calcio d'arco Leone di tacco Daniele Castagnola è il gol del 4 a 3 a coscia di distanza l'approvazione di Mama Service avanti Marco Castagnola Leone fuori che occasione per Damiano Leone la sbaglia il leoncino Leone che ne vien va al padana nel frattempo arriva il fumo Daniele Castagnola Leone non ci arriva Marco Castagnola Miglior partiere Graziano Luina di pizzeria Ternana questo torneo Master Hip il giocatore del torneo è Luca Di Gennaro di pizzeria Ternana il giocatore del torneo è Emanuele Luciani Sancti di pizzeria Ternana 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 e Grazie.